bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuder e purtroppo oggi ragazzi sono qua da solo di solito le aperture dei bauli del clan le faccio insieme alla pamina ma lo sapete anche voi ragazzi non si sente ancora al 100% quindi mi ha autorizzato ad entrare nel suo account e ad aprire per voi il suo baule del clan 10 su 10 ovviamente siamo qua abbiamo un bel po di roba da aprire ragazzi stiamo anche vedendo questi primi giorni dove troviamo iniziamo a trovare dei deck con l'arcere magico e sembrerebbe che il metagame di clash royale stia veramente veramente cambiando non so se voi già avete trovato delle persone con il nuovo arcere magico se per caso invece voi l'avete sbloccato e avete già trovato un bel deck scrivetemelo qua sotto ragazzi che non vedo l'ora di vedere le vostre strategie comunque noi andiamo a sbrindellarci di squisquiglie dire ai ragazzi di preoccuparci e fare una bella partitina con questo qua il rank scaldarci le mani apriamo il mio baule e poi switchiamo sull'account della pamina 4410 trofei ragazzi ho tolto il mini pecca e ho messo dentro il moschettiere sostenuto come mini tank dal caballero svediamo se volto tan degli hire of the hog molto interessante il nome un giant cattivissimo vediamo di stare indietro purtroppo siamo obbligati a sprecare questi pipistrelli perché non era pronto log rider per fare un push semidecente vale la pena attendere ancora un istante e via adesso e via adesso secondo me con log rider scaricuccioli gli andiamo a giocare centrale o grader che ignora completamente la fornace benissimo così andrei anche a dare una zap al suo principe e guardate che devasto guardate che devasto gli scaricuccioli ragazzi come vanno a fermare il giant e soprattutto sostenuti dalla torre vanno a fermare quel mega giant ragazzi attenzione anche al principe che invece potrà entrare purtroppo tirerà ben due hit una in carica addirittura tre hit tira mamma mia ragazzi il devasto del prince il devasto del prince ragazzi mai lasciare un principe mai lasciare un principe da solo attenzione alla mongolfiera attenzione alla mongolfiera andiamo a stringere con gli scaricuccioli sul cimitero e a fermare allo stesso tempo la mongolfiera necessaria una zap per proteggere il moschettiere che mi viene in aiuto ma purtroppo fa esplodere la tower siamo già sotto di brutto ragazzi siamo già sotto di brutto lui andrà a counterare gli scaricuccioli ripartirà dal centro con un gigante nella mia area di gioco io perderò la torre di sinistra e andrò molto allegramente comunque ad aprirmi il baule del clan no apre con una fornace allora andiamo allora andiamo ragazzi allora andiamo sfruttiamo questo piccolo errore da parte sua possiamo solo tirare un paio di hit con lo grinder purtroppo solo 1.674 come vedete i grandi danni della fornace e anche degli sgherri no in realtà pensavo giocasse un giant invece si è fermato lì si è fermato lì aspettiamo il suo attacco io esatto eccolo lì il giant eccolo lì ah gli ho regalato gli ho regalato la torre gli ho regalato la tower gli ho regalato la tower ragazzi it's a really big problem a really big problem and the tower is going down and the tower no non va giù ragazzi non va giù per qualche strano motivo rimane solo a 503 tentiamo di fare un push dall'altra parte ok ci sta il principe ovviamente dalla parte sua 40 secondi alla fine vediamo questo punto un cambio un push anche sulla sinistra lo obblighiamo a piantare giù una fornace vediamo se pipistrelli con scaricuccioli mi aiutano a fermare il prince e a preparare un secondo push ragazzi vai con lo grinder vai con lo grinder bene così che entra lui è bravissimo lui è bravissimo in questo frangente ad andare dentro così mi tira giù la torre tenta di fermare in tutti i modi o in sbaglio in realtà tirare questa zap non ha avuto molto senso 17 secondi alla fine solo 2503 cioè già 2503 la salute della sua torre vediamo se riusciamo 9 secondi 8 7 6 5 4 3 e perdo la torre centrale ovviamente per colpa del principe dobbiamo ancora ragazzi capirlo bene questo mi fa cagare il cavaliere fammelo tirar via subito perché non si può vedere un cavaliere che lavora così non si può proprio vedere andiamo a ripiazzare il mini pecca al suo posto ragazzi e qua non ci andava qua non ci si col moschettiere ci può anche stare da 3.1 non lo so non lo so intanto ragazzi vabbè questa è andata così è andata come è andata la storia non possiamo farla andiamo a vedere ragazzi col baulle del clan se invece abbiamo un pochettino più di fortuna 1620 di gold 95.518 gold totali non vedo l'ora riposare la zappetta al 13 4 mega stronzi questi non ci servono purtroppo non ci servono a 5 strega cacchioni non ci servono neanche questi 73 barilli d'ossa questi invece sono un po più interessanti arriva la strega della pami ragazzi ha sbagliato poco del clan doveva andare dalla pamina questa strega invece arriva a noi l'altro strega non l'ho mai richiesta quasi potenziabile a livello 6 cose strane che succedono non le sappiamo 18 giant non mi dispiace il giant ho sempre detto bello il giant prima o poi lo userò poi lo vado a donare quindi si è arrovinato attenzione potrebbe arrivare non arriva non arriva ho visto per un pelo l'ho visto quel colore lì mi sembrava fosse una leggendaria invece no arrivano due cacchioni ragazzi va bene anche questi sembrava fighissimo non l'ho più visto nessuno usare il cacciatore vediamo se andranno a sistemarlo ultima skip ragazzi andiamo a vedere 167 cannonau di sardegna anche questi purtroppo non sono utili direi ragazzi senza indugiare di switchare nell'account della pamina ci siamo ragazzi ci siamo 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 qua dell'account della pamina 4124 trofei per lei c'ha quel magichino lì da aprire che non è affatto male ma siamo qua ragazzi per aprire anche il suo baulozzo del can prima però la bella battaglietta che si vede che glielo fate i ranked mi spacca il sedere ragazzi quindi andiamo a faia cerchiamo di vincergliela cerchiamo di vincergliela speriamo di trovarle almeno a lei una leggendaria qualche problema nell'arrivare a fare il matchmaking ma poi siamo contro pedro papa dei so a direttoria che parte subito infamissimo con un coso ancora più infame io non capisco come possano loro sinceramente non è la prima volta che mi capita di dire una roba di gente attenzione bronc subito davanti il giant alla strega ok lui va di rocket pulito addirittura di vortex direi di preparare la nostra strega notturna piazzargliela dietro e andiamo a vedere un pochino ok adesso andiamo a tirare giù la torre credo che non dovrebbe avere chissà quanto elisir ancora bene così andrei a spingere anche con lo spirito del ghiaccio ragazzi e la torre va giù facile facile in un colpo solo potremmo continuare a pushare ragazzi non so bene perché ma vale la pena provarci guardate un po' che devasto guarda un po' che devasto ragazzi anche con la fireball attenzione potrebbe andare giù potrebbe andare giù ragazzi e con un attacco in meno di 30 secondi andiamo a tirare giù per tre corone la partita popolo 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 grande partitozza ragazzi grande partitozzo ci meritiamo di trovare una mega leggenda abbiamo chiuso proprio facile facile ragazzi andiamo a trovarla andiamo a trovarla questa leggendaria bawekan per la pamila ovvia la 1.620 di gold anche per lei quasi a 30.000 7 skip 31 arcieri non li usa so che questi non li usa ancora 33 scheletrini una delle carte che non ha mai probabilmente usato in vita sua ma stranamente ce li ha comunque a livello 10 deve esserci il mio zampinoli 41 tesla ancora 4 skip dai 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 64 caballeros ragazzi anche questi penso non so se lo usa forse lo usa il caballeros non me lo ricordo non me lo ricordo 71 barili d'ossa questo continua a darceli i barili d'ossa i barili d'ossa vuole troppo che li usiamo due skip non so se ci sarà la leggendarietta speriamo vediamo e non c'è ragazzi non c'è neanche da lei 27 macchine violente ma speriamo che perlomeno l'ultimo skip che dovrebbe essere quello delle carte epiche ci dia una soddisfazione prima di andare a skiparla però ragazzi scataia mi raccomando di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto andiamo a vedere arrivano tre barili goblin peccato se fossero stato tre streghe non sarebbe assolutamente stato stata male la cosa questo è il deck della pamina c'ha 110 streghe su 200 è anni che la chiede porco giuda fra poco la porta all'otto ragazzi pami devasto beh ragazzi direi che per oggi il video può finire qua io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato un bel ciao 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 ciao